Ciao Ale, posso disturbarti? Ciao, certo, vieni, nessun disturbo, guarda, stavo strimpellando, mi stavo rilassando un po' prima della puntata, bello, che cos'è? È il mio tablet Asus VivoTab RT con il nuovo Windows. E cos'ha di speciale? Guarda, è tutta un'altra cosa, è un altro Windows. Questa è la schermata Start, i tuoi contatti, le mail, le foto e tutte le app che puoi scaricare dal Windows Store. Beh, ma è fantastico, si può anche personalizzare. Con il nuovo Windows puoi personalizzare tutto, anche la password. Spiega. Scegli un'immagine, scegli tre movimenti e accedi al mondo del tuo tablet. Beh, ma Dario, è una performance eccezionale. È o non è un talento? Per me è sì tutta la vita. Fai vedere? Il tablet Asus VivoTab RT con il nuovo Windows ti aspetta nei negozi Team con le offerte tutto tablet. A partire da 30 euro al mese hai il nuovo Asus e internet senza limiti di tempo già incluso. Grazie centimeter in via la Voces本ona. Grazie a tutti. Non è un luglio al fiduoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti